Buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa di TG Plus di lunedì 3 luglio. Lo sballo dei minorenni droghe sintetiche online lo scrive la tribuna di Treviso. Indagine dell'Ulss2, almeno 100 sostanze psichiative acquistate da studenti di 15-19 anni. Nasce l'osservatorio contro le dipendenze, comuni e scuole lavoreranno insieme. Rafica di furti nei locali, il ladro passa a salutare, addirittura prende in giro. Vediamo un'informissima Igor Cassina, alfabeto del futuro con Cassina, lo sport vince tutte le paure. Oggi il ricordo delle 11 vittime nel piazzale di Passo Fedaia, vedete che si parla di marmolada ancora. Casa razziata in pieno giorno, sventrata la cassaforte e qui a Piavedi Soligo uno che spara la gazza con la carabina la uccide e patteggia 4 mesi. Insomma gli animali sono molto protetti adesso, bisogna stare attenti anche a fare certe mosse. Il gazzettino, borsa della spesa super aumenti, calano costi di trasporti e produzione ma rincari fino al 46% negli alimentari. Il record di pasta è gelati, l'ombra della speculazione, il ministro Urso, allarme, prezzi è alto e allora si deve intervenire. La marmolada, i 12 mesi dopo si parla ancora di marmolada, famiglia divisa tra rabbia e rassegnazione, è trovato morto alla base di una palestra di roccia, un scalatore di mestre. All'Akbar, paura davanti alla stella dell'11 settembre a Padova, vediamo due poliziotti, è successo anche questo, fermato un pakistano con un coltello e ancora si torna a Jesolo con le sfide tra le bande all'Arbata, tra le Corriere. Anche qui è un bel guaio, cercheremo di sentire ancora il sindaco se sarà disponibile per il nostro focus. Un'occhiatina la diamo al Corriere della Sera, non avendo Corriere del Veneto del lunedì, bella la notizia della Ferrari che arriva seconda, i fondi dell'Unione Europea, obiettivo vicino, basta tafazzismo sul PNRR, sull'Europa, PIA socialisti, intesa naturale. E nella fotonotizia il coltello, la droga e i complici, Michel, il mistero di un delitto, si parla anche un po' di guerra di Ucraina, l'allarme di Kiev, sono stati minati i reattori da polizia, non sono cose belle da leggere. Andiamo anche a vedere la pagina di Notizie Plus di Treviso, andiamo a vedere magari le ultime, le recenti, così ecco vedete a Mogliano individuati i responsabili degli atti vandalici in città, a giugno i veneti hanno pagato 5,8 miliardi di tasse e passano meccatronica all'ex Pagnosin, l'evento East Academy, queste sono diciamo le recenti, le troviamo così, poi naturalmente nella pagina principale si trovano quelle nuove e anche quelle vecchie, ma potete andarle a vedere poi, qui vedete, avete provincia per provincia e potete andare all'interno della nostra pagina di Notizie che viene regolarmente e quotidianamente aggiornata. È tutto anche per la pagina di Treviso.